buongiorno cari amici e benvenuti nella città di alba sede di uno degli uffici di remax opera oltre a quello presente a torino e quello di leini alba è una città meravigliosa che offre tantissime opportunità immobiliari e non solo è famosissima in tutto il mondo per quanto riguarda il tartufo bianco tant'è che nei mesi di ottobre e novembre di tutti gli anni ospita proprio il festival internazionale del tartufo e poi nel 2017 alba è entrata a far parte del patrimonio unesco insomma una città sublime e oggi sono proprio qui nelle vie del centro per farvi vedere questa meravigliosa attività commerciale che noi di remax opera abbiamo acquisito da poco si chiama fioralba è una caffetteria e gelateria venite la scopriamo insieme fioralba è il locale perfetto se volete degustare un buon caffè in compagnia di amici oppure un pranzo o magari bere un buonissimo cocktail nell'ora dell'aperitivo bene se questa attività vi è piaciuta non vi resta che contattare remax opera veniteci a trovare nelle nostre filiali di torino alba e leini a presto